10.04 in batteria, cosa ti è piaciuto o cosa no? In realtà non mi è piaciuto tutto, la partenza è stata un'ottima partenza, poi purtroppo questi problemi fisici che ho ne continuo a risentire, non mi hanno permesso nella mia parte forte di riuscire a lasciarmi andare e soprattutto avere quella corsa facile, ho dovuto correre con due freni a mano tirati, alla fine ho dovuto anche un po' mollare per cercare di non contrarre ancora di più di quella che era la situazione e niente, passerò la nottata in fisioterapia, cercare di rimettermi in piedi per domani, rimane un altro giorno, altra gara per me e per tutti, quindi vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Marcello, gli americani vanno molto forti e carli 9.79 in batteria? Assolutamente sì, ma si sapeva che già da tutte le stagioni stanno andando forti, questa è una pista che loro gli hanno sempre avvolto molto bene, vanno sempre molto forti, domani farò un altro giorno per tutti e quindi si rito a vincere. A domani! Grazie!